Allora, se io faccio una sanzione e mi decurtano dei punti, devo dichiarare chi guidava, perché i punti si decurtano dalla patente di un conducente. Non si decurtano da una targa, ma è chiaro come il sole che chi conduce un veicolo è proprietario o in qualche modo è in disponibilità di un veicolo targato. Quindi se io per esempio vado oltre 40 km all'ora nel limite massimo di velocità, oltre 60 km all'ora vengono decurtati dei punti, da una parte vi è la sanzione amministrativa derivante dal fatto che andavo troppo veloce, e dall'altra devo dichiarare chi guidava, perché chi guidava sarà quello a cui viene decurtato sulla sua patente il numero dei punti corrispondenti alla sanzione accessoria letta di quell'articolo. Se la macchina di fatto è intestata a una società giuridica o a una persona fisica, una persona giuridica scusate, beh in questo caso la persona giuridica è tenuta a comunicare chi guidava, ma se non comunica chi guida, cosa succede? Ecco questa cosa qua viene spiegata nel coma che metto nell'immagine ed è dell'articolo 126 bis. In questo audio, devo fare anche una scusa perché fino a due anni fa ne andavo sempre in automatico, questo che si chiamava incauto affidamento era un articolo a parte del codice della strada, esiste ancora, però in questo caso è stato chiarito per quanto riguarda i punti. Tu non comunichi, ti do un'ammenda ulteriore, dai 280 euro fino ai 1000 euro, e l'editto minimale si intende il fatto che la prima volta che succede questa sanzione io ti do il minimo. Poi eventualmente, discrezionalmente dall'agente del traffico o dall'autorità preposta, questa sanzione può essere anche superiore. Sulla discrezionalità politica, tra virgolette, dell'autorità che combina la sanzione, signore, questi possono giustificarlo nel modo che preferiscono loro, e purtroppo non vi sono particolari circolari o direttive che spiegano questa cosa. Però deve essere stato abbastanza chiaro, nei confronti anche di qualcuno che me l'ha chiesto ieri, in un momento un po' particolare. Con questo audio, che è abbastanza corposo, vi lascio alla giornata, spero che lavoriate molto bene, se avete dei commenti e delle valutazioni potete lasciarle come sempre. Salve a tutti!